Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Oggi ragazzi siamo quattro dati su un video informativo Infatti oggi vi andrò a spiegare bene cosa vorrei fare nei prossimi video Mi raccomando ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale così non perdete male la notifica Attivate la campanellina e condividete questo video con tutti i vostri amici ragazzi Oggi appunto vi devo spiegare che video fare nei prossimi giorni Allora, penso che sabato uscirà pre-juve Genoa e domenica uscirà di post partita Ok L'onedì penso che uscirà un video di Clash Mini E anche un altro video, vediamo quale Martedì uscirà un video di Genoa, di Bro, non lo so Anche lì martedì mi metto qualcosa in qualche modo L'uscirà mercoledì Forse qualcosa di Brawl Giovedì penso di portare Clash Royale e pronostici Vengerdì qualcosa Forse scampi assurdi ragazzi Tantissimi like per scampi assurdi Perché è una serie incredibile che ci vuole tanto tempo anche a montarla Quindi più like lasciate meglio ecco E a proposito di questo, voglio appunto spiegare più che altro per le prossime settimane ecco Perché oggi è il 3 dicembre Allora fino al 23, 24 sarà tutto normale I soliti video Forse anzi no Forse il 24 un po' meno Però Ragazzi sappiamo tutti che Il 24 è la vigilia Vedremo se pubblicare anche lì Perché il 24 è un venerdì È un venerdì Quindi il venerdì solitamente pubblico tre video Vediamo se riuscirò a pubblicarli Ragazzi Cioè nel senso A Natale mi dovrò pre-registrare i video Alcuni video mi dovrò pre-registrare Penso che usciranno sempre un video al giorno Quindi avrete sempre il solito video E poi da quando si tornerà regolarmente a scuola Avrete sempre i video Magari che ne so Per la scuola Diminirò Tipo sto pensando il venerdì di metterne due Ad esempio Oppure Giovedì Metterne una Anche se giovedì In realtà Probabilmente Ne lascerò due Però vedremo Soprattutto negli ultimi mesi Perché sono quelli Molto duri Quindi vedremo Quindi Niente Allora Poi Riguardo al Clash Mini Ragazzi Non stanno uscendo contenuti Perché non c'è un cliente No vabbè l'animo Poi Di Clash Royale Neanche Ci sto poco giocando Di Clash Royale Veramente poco Negli ultimi 15 giorni 20 giorni Ma però ci sto giocando Veramente tantissimo Ragazzi Con il nuovo Aggiornamento Mi è salita Molta hype E Con Vabbè Gli altri giochi Ah Spoiler Sono internato Anche su PES 2021 Però ovviamente Regano Mi ho portato i contenuti Sul canale Perché Non hanno senso Non vi farò Per divertire Ragazzi Sapete che PES Regalo Portato un bot E' una serie che è andata Purtroppo male Sul canale E non la porterò E anche Perché è 21 Quindi Verso prima Era Da quanto ho capito Con tutti Quegli spacchettamenti Incredibili La squadra Che ho Perché è Una Veramente fortissima Regà Che ha perso Ho giocato Un bot L'estate Anche prima Un po' male Me lo sono scaricato Ma regà Potrebbe No Appunto In vista del Natale Uscire dei video Molto speciali Quindi ad esempio Più video Diverse Dal solito Regà Potrebbe Arrivare Un'intervista Doppiante Anzi anche due Ma non lo so Vediamo un po' Quello che succede Potremmo Fare Farò delle live reaction Sul canale Datevi un po' di tempo Perché è davvero complicato Quindi Appunto Dare un po' di tempo Penso che Magari Vi potremmo Portare una live reaction Di qualche partita Ah no Regà Adesso ti ho pensato Che mercoledì Vabbè Mercoledì Non va a scuola Magari Potrei pubblicare Anche tre video Però vediamo Magari Come è bonus Ma mercoledì Adesso che ci penso C'era sempre La Yu Gioca Mercoledì Contro il Malmo Vabbè Non lo vedrò mai Quella mattina Perché su Sky E su Metaset Non lo daranno Quindi penso che Malmo Non lo vedrò Non mi interessa Neanche tanto Mentre magari Faccio qualcos'altro Poi vi faccio In post partita Il Chelsea Non perderà mai Contro Zenith Quindi Figurate Ma non siamo qua A parlare Champions Dalle nuve Ma Non parlare di video Inoltre ragazzi Vi volevo Ovviamente Giorno di Natale Forse farò anche Un video Che Regalo Già avuto Per Natale Però non lo so Regà Non Non ho idea Se farlo E poi Vabbè Mi inventerò Qualcos'altro Di speciale Vabbè Regà Mangio un sacco A Natale Quindi Do Quindi Mangio Pandoro Panettone Regà Che mi piacciono Un casino Sono malato Per i panettoni Veramente Cioè Mi piace un botto Vabbè A me piace mangiare In generale Per fortuna Sono anche molto alto Quindi Non sono sovrappeso Non sono Ciccione Ma Sono Il giusto Ecco Forse Devo Stare attendo Non baggiare troppo Ma Vabbè Ma questo Non è un tema Deve Vi voglio Parlare E oltre Che avete visto Il video di ieri Anche Quando Ho incontrato Raxor In una partita Incredibile Regà Ancora Non ci sto Credendo Infatti Uno mi è iscritto Che fortuna Quindi Tanta roba Lo saluto Anche nel video Ciao Bro Che mi è iscritto Poi Vabbè A proposito Fiii 22 Mi arriverà Natale Vabbè Quello è L'unico Spagna Che vi posso dare Però il problema Sapete qual è Che noi Cioè Io Devo andare Molto probabilmente In montagna Perché Io quasi ogni anno Per 4 giorni 3 giorni Per in montagna Fatto sta Che in una casa Non c'è la connessione Quindi E poi Devono arrivare Anche queste cuffie Che poi arriveranno E appunto Io Senza connessione Non posso registrare Senza cuffie Non posso registrare Quindi Di punto Probabilmente 2 giorni Farò Una carriera Così a caso E poi Dal Tipo Dal 10 Iniziamo Perché poi Dal 1 a 7 Non gioco a fifa Per fare motivi Che non vi so Spiegare Perché La settimana Dal 1 a 7 Probabilmente Usceranno Meno video Però Cercherò di Preregistrarmi Ne un sacco Riga Quindi Niente Questo era Quello che volevo Dervi Non so che video fare Ho buttato Sto video Sapete che a me piace Parlare con voi Questi video Faccio una volta Ogni Due settimane Ogni settimana Quindi raga Io vi saluto Ti ringrazio Bella raga Grazie a tutti Grazie a tutti.